Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, questa è proprio bella. Attenzione, Soumaoro torna in campo come se non fosse successo mai nulla e dice contro l'Europa, io combatto contro i maltrattamenti che i migranti subiscono da parte dell'Europa. I maltrattamenti dei migranti contro i migranti da parte dell'Europa. Ma tua moglie e tua suocera cosa facevano? Ma stiamo scherzando? Cioè, lui sul divano è seduto con la moglie che agli arresti è stata arrestata proprio per aver fatto tra le tante cose anche non pagato i migranti, non gli hanno dato da vestire, da lavarsi, da mangiare, da riscaldarsi, l'elettricità. Insomma, questo qua ci viene a raccontare contro i maltrattamenti che i migranti subiscono da parte dell'Europa. Ma, povera Italia, farsi prendere in giro da questa gente qua, mio Dio, come siamo messi male. Questo qui è in Parlamento a dire queste cose qua. È veramente sconcertante, sconcertante, davvero. Lui dice stop con i Rolling Stone, no dice stop, torture e trattamenti disumani alle frontiere d'Europa. Caspiterina, che pelo sullo stomaco che ha questo qua. Porca Eva. Va bene. Poche le persone presenti in sala mentre parla sto personaggio. Tra i relatori esponenti della società civile, Stefano Galieni, responsabile immigrazione di rifondazione comunista, è un operatore culturale arrivato in Italia dalla Libia. L'obiettivo della conferenza stampa era quello di sponsorizzare l'iniziativa dei cittadini europei, ICE, un'azione politica dal basso, portata avanti per chiedere lo stop delle torture e dei trattamenti disumani alle frontiere d'Europa, ai danni dei migranti e richiedenti asilo. È una presa di posizione forte da parte dei governi locali e delle istituzioni europee contro queste torture. E nel corso della conferenza stampa è stato duramente criticato l'accordo Albania-Italia. Lo criticano perché ormai se lo sono scritti. Criticare l'accordo Albania-Italia dice ma che cos'è? Non lo so ma lo devo criticare perché l'ha fatto la destra. È come quando vogliono fare il ponte, si sta facendo il ponte. Perché non lo vuoi? Perché lo vuole la destra, ha cominciato Berlusconi quindi ovvio che io non lo voglio. Sono di sinistra e non lo voglio. Se volevo il ponte ero di destra. Pensate un po' la ritorsione mentale. Se io sono di sinistra non voglio il ponte perché se volevo il ponte ero di destra. Ma cosa vuol dire? Perché il ponte è di destra adesso? Quel caspita di ponte è diventato un ponte di destra? Eh glielo scriveremo sul ponte, no? Questo è un ponte voluto dalla destra e osteggiato dalla sinistra. Ecco, veramente la politica italiana a dire grottesca è dire poco. Bene, comunque non ci sarebbe niente di male poi sul cercare di difendere i diritti dei migranti. Anzi, bisogna difendere i diritti di queste persone. Ma la cosa curiosa è che ce lo viene a dire Soumaoro. Lui non è indagato, quindi direbbe un mio amico. Lui non risulta indagato in alcun modo per le vicende che riguardano la cooperativa Caribou. Ma come dice Striscia la notizia, cari amici, il tizio non poteva non sapere. Eh, Caspiterina ci stava lì sul divano a guardare la televisione con queste persone. Ma dai, su. Va bene. Sidi Traore, ex dipendente della cooperativa Caribou, al programma di Antonio Ricci, Striscia la notizia, dice abbiamo avuto il problema dei termosifoni, il problema dell'acqua calda per fare la doccia, il cibo non era sufficiente, c'erano giorni in cui non ci davano proprio da mangiare, zero. Salta, si salta, siamo esseri umani e non possiamo vivere così, dicevano a Soumaoro. Ma lui diceva di non sapere assolutamente nulla. Quindi Soumaoro ascoltava queste cose ma a lui non risultano, lui non sapeva, lui non si è accorto, a lui non avevano detto. Ecco, quindi, e quindi, ecco, e quindi questa è questa è la cosa che vi ho raccontato tante e tante volte. Adesso lì i familiari di questo Soumaoro sono tutti lì a casa agli arresti domiciliari per frode, riciclaggio, bancarotta. Lui la sapeva questa cosa perché il suo ufficio stava proprio lì, conferma l'ex dipendente. Lui rispondeva aspettate, aspettate perché non ci sono i soldi, lo Stato non ce li manda. Mentre erano arrivati 25 milioni di euro di appalti pubblici che usavano tra ristoranti di lusso, enoteche, alberghi a 5 stelle. Mentre loro giravano negli alberghi a 5 stelle con il trolley Louis Vuitton cup, quelli erano senza mangiare mentre loro andavano a brindare a fare cincinna l'enoteca con bottiglie da 150 euro. Hai capito queste persone qua? Guardate io ieri sera ho visto un film sulla 7 di Alberto Sordi detenuto in attesa di processo, mi sembra che si chiami così, Caspiterine, è un film del 1971 dove si vede Alberto Sordi che gira 4-5 carceri italiane. Sono rimasto scioccato per come erano a quei tempi le carceri italiane. Uno è anche un carcere che hanno chiuso, che è una fortezza, un'antica fortezza, ma le condizioni che si vedevano anche nel film, igienico, sanitarie e proprio i diritti dei carcerati nel 1971 non sembrava di essere in Italia, sembrava di essere nelle peggiori galere del pianeta, sporco, celle anguste, una cosa terribile. Io direi che non torniamo ai livelli del 1971, le patrie galere odierne saranno diverse da quelle del 1971 del film di Sordi, terribile quel film, però io dico che bisognerebbe cancellare gli arresti domiciliari. Tutte le persone, anche un giorno solo, che hanno di pena da scontare, lo devono fare in prigione, non a casa a guardare la televisione sul divano, in prigione come ho visto nel film di Alberto Sordi che poi alla fine era innocente, sto poveraccio, no? Ecco, perché con gli arresti domiciliari mi sembra un po' una vacanza, mi sembra un po' una gita. Grazie a tutti e arrivederci a presto.